Alla posizione numero 6 troviamo Lens, diciamocelo, Lens è un figo come allenatore con un po' come tipo drago veramente potenti, Aerodactyl, Charizard compresi, ma non è esattamente quella forza sovrumana che sembra essere e quindi si merita proprio l'ultima posizione benché io ami la seconda generazione, la sfida non l'ho trovata per niente complicata. Alla posizione numero 5 troviamo Nardo, campione di bianco e nero, perché in bianco e nero 2 abbiamo Iris, ma ho preferito, anzi ho trovato anche un pochettino più complicato, Nardo, con i suoi Pokémon che sono Accelgor, Buffalant, Dradigon, Vanilux, Scavalier e Volcarona. Diciamo che un pochettino di difficoltà te la mette, ma non così tanto da sudarci completamente, non proprio, dai. Alla posizione numero 4 troviamo Rocco, sì, non Adriano, ma Rocco da Zaffero e Rubino, non mi è piaciuto in smeraldo Adriano, è stato molto facile da sconfiggere per questo Rocco con i suoi Pokémon tipo acciaio, è stato veramente una pressa al culo, è stato veramente complicato sconfiggerlo, ma diciamo che anche lui con un buon Pokémon tipo fuoco settato non è che possa dare così tanti problemi come sembra. Alla posizione numero 3 troviamo Camilla, diamante, perle e platino, lei è già veramente una sfida più complicata, perché i suoi Pokémon sono di tipo molto diversi gli uni rispetto agli altri e devo dire che sono veramente potenti, cioè sembra una lega normale, tranquilla, e invece no, poi arriva Camilla con la sua potenza disumana, quindi secondo me si merita la terza posizione. Alla posizione numero 2 troviamo Dianta di Pokémon X e Y, non l'ho messa qui perché è molto difficile da sconfiggere, anzi diciamo che l'ho trovato anche molto facile, ma l'ho messa in questa posizione perché il suo Mega Garden War mi ha dato parecchi problemi anche solo nella mia videoguida, e quindi ho trovato molta difficoltà a sconfiggerlo per diventare campione, ci ho messo veramente un po' di tempo per farcela, per questo si merita la seconda posizione. E alla posizione numero 1 ovviamente che troviamo, ma ovvio, Gary di blu, rosso, giallo. Diciamocelo che per i tempi, ok, non avevamo tutti questi aiuti come in X e Y con i condividi esperienza che allenava tutta la squadra, ok, in rosso e in blu sì, ma comunque la lega di Gary, più che altro la sfida contro Gary, è veramente difficile, ha dei livelli veramente elevati per essere un gioco per bambini, e quindi diciamo che può dare parecchi problemi nella sfida, e secondo me si merita la prima posizione. Voi cosa ne pensate? Se questa mia top 5 vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, un commento, un iscrizione, ok, era una top 6, chiedo scusa, scrivetemi la vostra, in base all'ordine che credete voi, e mi raccomando, scrivetemi sempre che una top 5 dovrai fare sul canale. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo alla prossima, un saluto a Teo, ciao ciao!